Ieri sera, nell'anticipo di campionato, Parma e Juventus insieme e di fronte, tutto esaurito alla Tardini. Sorrisi e anelli, ma quando la palla arriva sui piedi di Roberto Baggio si capisce che è gol. Di questi tempi non ne sbaglia l'Anelli. Ma quando la palla arriva sui piedi di Roberto Baggio si capisce che è gol. Di questi tempi non ne sbaglia l'Anelli. Tredicesimo centro nelle ultime sette partite per il capitolo.